Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo la book della pianura. L'occorrente di oggi è due cartoncini verdi, carta gialla, verde e bianca, colla stick, nastro adesivo, pennarelli e pastelli per colorare. Primo step. Taglia a metà un cartoncino verde. Secondo step. Unisci una metà al lato sinistro del cartoncino e l'altra metà al lato destro. Terzo step. Taglia a metà il disegno e incollalo come nell'immagine. Coloralo e poi assegna a ogni cartellino il proprio nome. Quarto step. Nella parte a sinistra ritaglia e incolla i cartellini. Che cos'è? I elementi naturali e antropici e il clima. Quinto step. Nella parte centrale ritaglia e incolla l'immagine dell'Italia e colora di verde le pianure. La loro origine. Sesto step. Nella parte a destra ritaglia e incolla i cartellini. Attività dell'uomo e flora e fauna. Ecco come si presenta la buca all'interno. Sesto step. Nella parte a destra ritaglia e incollalo come l'interno. Sesto step. Nella parte a destra ritaglia e incollalo come l'interno. Sesto step. Nella parte a destra ritaglia e incollalo come l'interno. Sesto step. Nella parte a destra ritaglia e incollalo come l'interno. Metti un bel mi piace, iscriviti al canale, attiva la campanella per ricevere un po' di notifiche, commenta, condividi e seguici!